Andiamo al mare? Andiamo. I lettini nell'acqua? Ah, sicuro. Ha le hamache? Bellissime. Sala relata? Ha la jacuzzi? Dove sta? E parla di qualcosa? No, 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 no. I palmas? Los ristorantos. Il ristorante è... Grimma. Del giorno. Por... Come si dice? Per il pranzo? Ricordo, come si dice? Ti spengo. Andiamo al mare. Oggi c'è vento, però. Ma dove? Il mare? Sulla stessa? E là c'è il mare. Ti fai sull'anni presti? Al mare c'è il mare.